A Scafatti io non ho giocato mai perché questa è la mia terza stagione qua in Italia, allora questa è la prima stagione di loro nella Serie A quando io sono qua. Sì, io sento che è un palazzetto molto caldo come tu hai detto, con il nuovo allenatore, una squadra con talenti, stranieri che hanno tanti talenti. Secondo me è una partita molto difficile per noi, però noi siamo in un buon momento, giochiamo bene e speriamo che questa settimana con lavoro che abbiamo fatto e tutto per preparare la partita contro a Scafatti. Speriamo che vinciamo la partita. Davide è un giocatore fortissimo, giochi tanti anni nell'Europa, ha giocato in tutto il livello che è possibile in Europa, lui è sempre pronto, sempre carico per fare punti e certo lui è un punto che noi abbiamo da limitare, non lo so se è possibile limitare completamente, però se lui non ha un buon giorno di tirare da tre o da due è una cosa che è meglio per noi. Grazie per la visione!